Forse conviene sgomberare il terreno da un equivoco, cioè dall'idea che il tiranno sia un essere cattivissimo, feroce, persecutore dei suoi simili, blindato con delle guardie del corpo, questa è un po' la caricatura del tiranno, il quale ha certamente delle guardie del corpo perché si deve tutelare da attacchi avversari, però è per definizione, la parola vuole dire esattamente questo, mediatore, è un uomo che interviene nei conflitti esasperati tra clan familiari contrapposti e anche tra gruppi sociali contrapposti in funzione super partes, in funzione di grande mediatore. Il fenomeno della tirannide è vastissimo, la Sicilia è governata, le grandi città greche di Sicilia, si accusa in primis da figure tiranniche, ma anche nella grecità della Calabria meridionale, Crotone, nel conflitto di clan e sociale che dilania il mondo greco in tutte le sue componenti, dall'Egeo alla Madre Patria alla Magna Grecia, i tiranni affiorano come la soluzione di minore danno o di maggiore vantaggio. In Atene il tiranno Pisistrato lo conosciamo meglio di altri perché Tucidi dello Storico che ha eretto un monumento a Pericle e che ci ha raccontato la storia della guerra tra Sparta e Atene in modo analitico, dedica varie pagine a Pisistrato per elogiarne l'intelligenza politica, la capacità e sfatare il mito negativo del tiranno. Anzi in un certo punto della sua storia dice che a rigore non esercitò mai un potere straordinario, un potere anomalo, ricopriva regolarmente le cariche previste dall'ordinamento della città nei limiti della legge.